Perchè quando si pensa a coppia si pensa sicuramente alla coppia come al supermercato. Noi abbiamo il piacere di dire che oltre al carrello c'è qualcosa in più dentro e questo lo facciamo con estrema tranquillità proprio per tutto l'insieme delle nostre attività che cercherò molto di illustrarvi. Intanto Copp è una cooperativa di consumatori in cui abbiamo 515.000 soci. Ogni anno organizziamo attività con una presenza di circa 50.000 persone. Questo perché Copp ha un suo statuto sociale. Copp realizza le intenzioni etiche dei soci perché per noi il socio è qualcosa di più del consumatore, un di più che è rappresentato proprio da un fatto tutualistico che lo lega alla cooperativa. La nostra partecipazione è anche organizzata. Noi abbiamo appena fatto il rinnovo dei consigli delle nostre sezioni soci perché abbiamo ben 500 volontari sul territorio. Pensate a questo evento hanno partecipato 19.000 soci proprio per un'elezione a suffragio universale dei propri rappresentanti. Devo dire che anche qua la percentuale delle donne che sono risultate lette diversamente da quello che invece succede nelle altre competizioni elettorali è molto elevata. Noi abbiamo oltre il 63% di presenza femminile all'interno della nostra organizzazione. Mi piaceva collegare un attimo i corcenti che l'Unione Europea ha già sancito e sono la partecipazione ad attività formative e culturali. Permette anche lo sviluppo delle capacità espressive e relazionali. Abbiamo sentito prima l'intervento. Capacità che sono alla base del principio di inclusione. È un concetto quello dell'inclusione che questa mattina è venuto fuori e sul quale poi vi permetterete di ritornare. Poi l'altro concetto molto importante che non sia quello del sapere e di conoscere a tutte le età. Questo è un convegno che si chiama l'Arco della vita. Quindi si analizza un po' fino a tutte le età e sono strumenti, questo mi piace come affermazione, di liberazione democratica in quanto rendono le persone consapevoli, responsabili e capaci di agire positivamente. Ed io solo so quanto in questo periodo di crisi valoriale abbiamo bisogno, anche di una rinascita da un punto di vista valoriale. Bene, che cosa facciamo? Arrivo alla comunicazione. Le ho attività, le concretizziamo in corsi teorici, conferenze a perdere punti, cittadini culturali, una giornata di sitempo a musei e a sitempo. Questo e questo, come le visite guidate ai musei, è un biocchio di un approccio alla conoscenza che valutizza anche questo dato, la partecipazione a vita. È così che noi vent'anni fa abbiamo costituito l'Associazione Tempolipeso-Cococcuria proprio per promuovere e supportare le iniziative di aggregazione dei nostri soci, offrire loro occasioni di socializzazione e acculturazione, contribuire a rendere, ci perdonerete questa cosa, un po' di tempo libero, un'opportunità per stare insieme in modo piacevole e intelligente. infatti, che cosa è successo? Noi abbiamo questi dati, che sono dati che stiamo presentando alle nostre assemblee di bilancio, dove questa parte sociale è molto complicata proprio per i motivi che vi dicevo all'inizio dell'intervento. 813 iscritti al programma Coppi Incontri, 681 a quello che avveniamo insieme, 143 ha un nuovo programma che si chiama Passeggiamo Insieme.